Rispetto a quelle che sono le somme stanziate, ci sono dei riferimenti o dei capitoli di spesa che riguardano questa area del comune interessato? Oggi in commissione a Bari abbiamo scoperto dal direttore di Asset che sono stati finanziati solo la progettazione, quindi non i lavori. Abbiamo chiesto, anzi ho chiesto al direttore di Asset di mettere in cantiere quei progetti, ma soprattutto di capire la situazione di quel territorio che è molto, molto, molto fragile. Quali sono le opere che interessano, che coinvolgono questi 6.000 cittadini? Cioè nel concreto, che cosa dovrebbe essere fatto dalla regione tramite comune? Sì, il comune ha presentato all'epoca dei progetti di mitigazione del dissesso, del pericolo di dissesso. Praticamente, ecco, in pratica ci sono delle vere e proprie montagne di terra che non aspettano altro che la pioggia per cadere giù. Quindi, ecco, si vede chiaro il pericolo per le persone, per le cose. Bisognerebbe mettere in pratica quei progetti, quindi fare delle opere di mitigazione del dissesso anche a terrazze, immagino, e quindi mettere in sicurezza quel territorio. Grazie.